Buonasera e bentrovati con Mercati che fare, niente bail-in, niente banche, niente risparmi, ho tanti risparmi, questa sera ci occupiamo di Mifid 2. Cos'è Mifid 2? Ne parleremo con Carlo Alberto Carnemale Maffè, docente di strategia aziendale alla SDA Bocconi di Milano, grazie per essere tornato qui Carlo Alberto, faccio fatica a darti del lei, ti do del twisto che siamo carissimi amici. Allora cos'è Mifid 2? Guardiamolo da questo servizio preparato dalla nostra redazione, poi ne parleremo qui in studio con te. Il 3 gennaio 2018 entrerà in vigore Mifid 2, la nuova direttiva europea che regola i servizi finanziari e introdurrà importanti modifiche in tutto il mercato unico. Gli obiettivi principali della disciplina, assicurare una maggiore trasparenza e protezione degli investitori. Ma cosa aspettarci? Per prima cosa si rafforza il concetto di consulenza. Il servizio finanziario dovrà essere garantito da personale che abbia un'adeguata competenza e padronanza dei prodotti offerti. La conoscenza del risparmiatore dovrà essere sempre più specifica. Si dovrà capire quanto l'investitore conosca il prodotto, quali siano gli obiettivi e il grado di rischio e quanto sarebbe capace di ammortizzare un'eventuale perdita. In aumento anche il controllo da parte delle autorità di vigilanza, nazionali e sovranazionali, che potranno intervenire limitando o proibendo la vendita di prodotti finanziari ritenuti particolarmente rischiosi. In tema di trasparenza verrà aumentata e resa più semplice l'informativa sui prodotti, aiutando l'investitore a comprendere da subito il tipo di investimento e il possibile rischio. La norma comunitaria impone inoltre una comunicazione più dettagliata sui costi. Sarà quindi più facile valutare l'ammontare totale degli oneri e confrontare l'offerta con strumenti simili presenti sul mercato. I risparmiatori avranno quindi nuove armi a disposizione per non accontentarsi e fare la scelta più consapevole. Insomma, abbiamo capito che Mifi è una nuova normativa, ma Carlo Alberto, come tante normative di cui abbiamo sentito parlare in passato, è una norma che arriva, passa, ci cambia la vita, è una rivoluzione oppure resterà tutto come prima? No, no, è un grande cambiamento perché è sostanzialmente un patto su due punti, trasparenza e adeguatezza. Trasparenza vuol dire una cosa molto semplice, mai più vendite a qualcuno che non capisce cosa compra. E direi che l'Italia è un esempio di gravi ignoranza ed equazione finanziaria e comportamento opportunistico da parte degli intermediari finanziari. Adeguatezza dal lato domanda e dal lato offerta. Cioè chi compra, chi investe deve essere con un profilo di rischio adeguato e chi lo vende deve essere trasparente. E qui ci innestiamo nella grande riforma europea degli intermediari finanziari. Il bail-in, la direttiva sulle banche, ha preparato il terreno perché ha obbligato le banche a essere trasparenti, a mettere i loro numeri sul tavolo. Bene, adesso tocca al risparmiatore. E già perché questo è Mifid. È cara banca, caro intermediario, caro consulente, devi essere trasparente nel prodotto e nel servizio che mi dai la consulenza. Eh ma caro risparmiatore, stavolta non basta comprare o investire, devi essere trasparente. Esattamente come si siede con i medici. Guarda, la metafora più corretta, Leo, è quella del Servizio Sanitario Nazionale. Sai, 60 anni fa non c'era questo servizio e di fatto il medico era un professionista privato. Poi è arrivato allo Stato e ha chiesto a tutti noi di farci una scheda e di essere trasparenti con l'anamnesi e la disponibilità a fare gli esami in modo tale che il medico, quando ti prescrive una medicina, lo fa sulla base dei numeri. Bene, quello che è successo per la nostra salute succederà per il nostro patrimonio. Andremo dal medico di famiglia, cioè il consulente, e dovremo esporre tutti i nostri malanni, cioè contestualizzare il nostro perfetto di rischio. Solo così il medico potrà correttamente indicarci gli strumenti da sottoscritto. Allora, andiamo un po' per ordine. Mettiamo ordine in questa normativa che, come giustamente hai detto tu, io ho fatto una battuta all'inizio, dovrebbe rivoluzionare il nostro modo di approcciare il risparmio. Però partiamo dall'altra parte, perché se noi dobbiamo cambiare approccio, l'approccio deve cambiare anche da parte delle istituzioni finanziarie. Allora, primo punto, cosa cambia per le istituzioni finanziarie? Cerchiamo di riassumerlo velocissimamente nei tempi della nostra trasmissione. Cioè, non basterà più quel documentino formale, firmato in fretta, che di fatto autodichiarava l'adeguatezza del risparmiatore. Cioè, il cosiddetto firmi qui, firmi qui, firmi qui, completiamo l'operazione. Quelle cose per cui invece non bisogna fidarsi e bisogna partecipare a un processo di educazione finanziaria. Questi sono i due principali elementi. Le istituzioni finanziarie saranno obbligate a un percorso di richiesta informativa e di verifica delle effettive caratteristiche del risparmiatore e di trasparenza sulle effettive caratteristiche del prodotto, non soltanto, ma anche della remunerazione e dei costi della consulenza. Questo è un elemento importante. Almeno sappiamo qual è il prezzo del prodotto che compriamo, ma anche qual è il prezzo e quindi il costo dell'intermediazione che ci viene offerta. Quindi, in sostanza, sappiamo cosa costa la medicina, cosa costa il farmacista e cosa costa il medico. Cosa che non abbiamo mai saputo, perché compravamo di fatto un servizio completamente integrato. Bene, questi valori oggi vengono obbligatoriamente esposti a chi compra. Certo che chi compra deve sapere cosa compra. Prima di arrivare a cosa compra, però, noi abbiamo raccontato più volte nei mesi scorsi, negli anni scorsi, ormai dal 2015 in poi, che il bail-in, la nuova normativa sui fallimenti bancari, avrebbe cambiato il mondo delle banche. Questo rischia di cambiarlo ancora di più, perché una differenziazione ancora più forte in questo settore ci sarà e sarà ancora più esplicita. Esatto, perché di fatto, in un certo senso, obbliga tutti gli intermediari finanziari a essere molto più trasparenti sul loro modello distributivo, cioè sostanzialmente lato intermediario sul modo in cui raccolgono o direttamente o indirettamente il risparmio delle famiglie. Questo è un elemento importante perché va a costituire le basi per quello che sarà l'unione del mercato dei capitali, cioè la fase successiva che l'Unione Europea sta pianificando e per esempio include i famosi PIR, quindi un cambiamento anche dell'allocazione del risparmio degli italiani che è spessissimo invece troppo breve, basata su tradizioni e non su informazioni corrette. La scelta di essere trasparenti a questo punto sarà una delle caratteristiche degli intermediari finanziari, così come lo è stato con il bail-in, l'obbligo a esporre il tuo CET1, cioè il tuo patrimonio di garanzia, i tuoi dati sui crediti deteriorati. Questa operazione di pulizia e di trasparenza ha fatto chiarezza fra banche sane e banche un po' meno sane. Bene, la MIFIT farà chiarezza, farà prodotti costosi, inefficienti, e prodotti e consulenti trasparenti, efficienti e preparati. È una grande operazione di educazione di mercato. Questa normativa, a proposito di educazione di mercato, ha al suo interno anche un obbligo da parte delle istituzioni di educare i risparmiatori. E qui andiamo nella via di mezzo. Questo è l'altro pezzo, perché purtroppo l'Italia, lo certifica Banca d'Italia e Consum, ha i risparmiatori più ignoranti, bisogna dirlo così, d'Europa. Noi siamo i più ricchi d'Europa e i più incapaci di utilizzare intelligentemente i nostri risparmiatori, perché abbiamo scasse educazione finanziaria. Però a difesa degli italiani va detto che fino a che c'erano i titoli di Stato che davano risultati anche in doppia cifra fino a qualche anno fa, non era necessario troppo. Certo, finché le banche ti dicevano tranquilli che ci pensiamo noi, c'era un incentivo all'ignoranza. Eh beh, questo incentivo... Ma era semplicità più che ignoranza. No, fammi dire che l'ignoranza non è mai una bella scusa e come sai il sonno della ragione genera a volte qualche mostriciattolo. Bene, il governo finalmente ha preso atto che l'Italia ha un gap da colmare sull'educazione finanziaria. Noi siamo uno dei pochi popoli al mondo dove non viene insegnato praticamente nulla nelle scuole dell'obbligo sui criteri elementari della finanza. Invece, lo abbiamo capito, essendo il risparmio una delle grandi forze di questo paese, quello che ci sta tenendo ancora a galla, è un peccato, anzi è un delitto al mio punto di vista, che la scuola non lo faccia. Anche perché i ragazzi sono molto ricettivi, girano molto per le scuole con eventi e lezioni. Meno male, i ragazzi non hanno un euro, sono i nonni che sono pieni di soldi e purtroppo ancora ancorati nelle loro antiche convinzioni, sbagliate, sul fatto che si stava meglio quando si stava peggio. No, il mondo è cambiato e sia giovani sia adulti devono imparare nuove regole. Questo vuol dire una grande campagna di educazione, che sarà però il portato della Mifid, perché non basterà autocertificarsi, ma bisognerà dimostrare che il proprio comportamento, non solo le proprie competenze o informazioni, siano coerenti col profilo di rischio, perché questa è l'altra grande informazione. Mifid è il trionfo dei dati. Gli euro, fammi dire, da soli non basteranno più. Il trionfo dei dati, però spieghiamolo a chi ci ascolta. Tu parlavi di anamnesi prima. Il trionfo dei dati nel campo medico è l'analisi del sangue. Esattamente, la resa del sangue. Non basta dire, dottore, sto bene. O non mi sento bene. Ecco, voglio vedere gli esami bene. Non basterà dire, mi fido, oppure voglio comprare le obbligazioni del Venezuela. Perché se il tuo profilo di rischio non è compatibile, non è, tecnicamente parlando, adeguato, emerge, non solo dal questionario Mifid, ma anche dalla tua storia di transazioni, i tuoi pagamenti, i tuoi investimenti passati, le tue scelte. Questo è il grande guadagno istituzionale. Non basterà l'educazione qualitativa, bisognerà incrociare i dati. E questa è una grande informazione. Anche perché dall'anno prossimo parte un altro principio importante che si chiama il principio della portabilità dei dati bancari. Ovvero, se vogliamo cambiare banca, la nuova banca, il nuovo consulente avrà diritto di ottenere tutta la storia dei nostri rapporti bancari dalla banca precedente. Quindi potrà ricostruire il nostro profilo di rischio reale. Non basterà l'intervistina, non basterà la dichiarazione. I dati più gli euro fanno l'investimento. L'euro da solo, senza dati, caro Leo, vale molto di meno perché non ha il contesto esattamente come una medicina, senza il contesto del nostro profilo, addirittura genetico, ha molta meno efficacia. Ora, quello che è successo per la salute, piano piano, progressivamente, succederà per i risparmi. Ovvero, professionalità dal lato del medico, cioè il consulente, trasparenza sul suo lavoro di consulente che non potrà essere annegato, ma dovrà essere remunerato o con una commissione o con una FII o per modalità... In maniera molto chiara. Ma in maniera chiara. E poi chi fa un servizio è giusto che sia pagato. quando il servizio è qualitativamente importante. L'importante è conoscerlo e saper valutare il suo contributo. Inoltre, i dati che diventeranno pietra miliare su cui costruire la storia dei nostri investimenti. Nel settore del risparmio c'è stata sempre questa voglia di tenere un po' le cose segrete. Magari al mio consulente gli dico 10 e gli altri 80 li tengo da un'altra parte e non lo ho racconto. È una grande ingenuità. Vedi, la medicina è una scienza e ha bisogno di trasparenza e comparabilità. Anche la finanza, che ci piaccia o meno è una scienza e ha bisogno di comparazione, di dati e di analisi. Quindi, l'illusione di tenersi nascosti i dati, di scegliersi tre o quattro banchette mentendo sistematicamente a tutte e quattro pensando di essere più bravi è un'illusione, è una grande, grande irresponsabilità. Quindi bisognerà mettere tutto sul tavolo anche perché l'incrocio dei dati sarà anche compito del supervisore che non si fiderà più giustamente delle mere dichiarazioni ma procederà a controlli incrociati. È un percorso lungo che durerà anni ma questo è un po' il concetto, esattamente come il Ministro della Sanità controlla che le ricette corrispondano alle prescrizioni fatte dagli altri e al nostro profilo medico. Quindi, questo è quanto è per quello che l'idea del fai da te che noi abbiamo sempre avversato, fammi dire, qualitativamente adesso finisce normativamente e quantitativamente il fai da te diventa la cosa più rischiosa e dal mio punto di vista anche irregolare da fare perché la normativa europea ci impone un patto di trasparenza. Poi, scegliamoci il medico di fiducia, nessuno ce lo impone, di una banca o di una società di consulenza finanziaria di fiducia, ma l'idea del fai da te, del gestire da solo il proprio patrimonio è un'idea illusoria e dal mio punto di vista pericolosa per i nostri figli. Un passaggio però essenziale a questo punto è la scelta dell'interlocutore a cui devo sarà un caso ma mi fid basta aggiungere una no alla fine e mi fido. Oppure non mi fido, no, è un invito a non fidarsi e a usare la fiducia come risultato di un processo di trasparenza, non come premessa, capisci? Noi veniamo da noi di apri la fiducia ha sostituito ex ante la verifica, no, la fiducia è il risultato ex post di una verifica di un patto di trasparenza reciproco. Cara banca, caro consulente, i numeri sul tavolo del prodotto della sua adeguatezza e della qualità dell'istituzione che c'è dietro del profilo di rischio che ha quel prodotto caro risparmiatore identico patto numeri sul tavolo profilo tuo e della tua famiglia intenzioni future purtroppo guarda Consoba ha dato i dati poche settimane fa ancora un bel quinto degli italiani non intende dire nulla al suo consulente questo è un atto scriteriato perché vuol dire che non siamo in grado di comprare il prodotto per noi adatto per noi invece è indispensabile che ci predisponiamo anche tramite l'educazione qui il governo è in ritardo di decenni il governo fammi dire però anche le banche anche i consulenti molto spesso hanno preferito tenere il popolo come dire sotto la sudditanza della poca conoscenza perché il fidati di me era troppo comodo adesso non è più possibile ora richiederà questo un po' più di burocrazia richiederà qualche modulo in più qualche domandina in più benvengano benvengano per gli esami nella finanza non devono mai finire esattamente come nella medicina e però attento non basterà la buona volontà tecnologie questo è il nuovo nome di Mifid e già come ti dicevo i dati sono al centro di questo percorso solo tramite l'incrocio dei dati e lo scambio delle informazioni i controlli potranno essere efficaci non mi basteranno le ispezioni tardive di qualche supervisore abbiamo bisogno di dati reali sistematici possibilmente digitali in modo tale che le nostre scelte siano controllate non solo dal nostro singolo consulente ma da una catena di controllo decisamente più ampia così facendo lo scempio che è accaduto in questi mesi in questi anni di vendite il famoso miss selling cioè di vendite inadeguate perché chi vendeva era in conflitto di interesse era in azzardo morale bene speriamo che non si ripeta più ecco in tante strutture finanziarie c'è un pizzico di preoccupazione la preoccupazione per uno stravolgimento che poi renderà tutto più trasparente tutto più disponibile tutte informazioni più alla portata di tutti chi ha da temere chi non è trasparente esatto il mercato bellezza come dicono gli americani è un mercato che si polarizza fra chi sa far bene questo lavoro e avrà le tecnologie e la professionalità adeguate esattamente come un medico deve contare su un ospedale tecnologico e chi ha fatto questo mestiere un po' se volete all'antica artigianale bene quel metodo di lavoro lì purtroppo anzi per fortuna dovrà scomparire ci sarà spazio per competizione fra adeguatezza trasparenza e tecnologia e professionalità non mi sembra una cattiva notizia chi ha da temere probabilmente ha la coda di paglia chi ha la professionalità il coraggio e le tecnologie non potrà che crescere Carlo Alberto in 30 secondi quando abbiamo cominciato a parlare di Mifid dicemmo è una rivoluzione ma si arriverà ad un mondo in cui le banche saranno sane trasparenti solide non metteranno a rischio i risparmi Mifid 2 Mifid 2 arriverà a un mondo in cui non solo banche perché l'idea è che ci dovranno essere molti più intermediari finanziari oltre alle banche compresa la consulenza indipendente che è elemento essenziale le banche dovranno sottostare a regole di trasparenza molto più vincolanti e noi dovremmo essere consumatori estremamente più preparati un mondo più educato più equilibrato e dal mio punto di vista molto più sicuro delle promesse di garanzia e di tutela assoluta che ci avevano fintamente venduto le istituzioni vecchie e le vecchie banche bene cominciamo ad informarci sulle rivoluzioni di Mifid noi lo faremo abbiamo cominciato qualche mese prima addirittura dell'entrata in vigore di questa nuova normativa lo faremo anche nelle prossime settimane per aiutarci per aiutarvi a saperne di più grazie a Carlo Alberto Carnevale Maffè per essere stato con noi ti avremo ancora quando parleremo di questo e di altri argomenti buona serata buona serata a tutti voi ci vediamo la prossima settimana arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti